Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è lunedì 2 marzo 2009. Il titolo del filmato lo vedete, Amore and Amore, Love and Love. È sottinteso che il primo amore è amore matriarcale, il secondo amore è amore patriarcale. È sottinteso. Dunque, sapete cosa diceva l'Albinitz? No, diceva che questo, il nostro, è il migliore dei mondi possibili. Sì, sì, è vero, è vero per tutti coloro che si sono ritagliati un posticino da dove godersi il mondo. Per tutti costoro questo è davvero il migliore dei mondi possibili. E uno di costui, uno di costui che si è ritagliato un bel posticino da dove goderselo il mondo, si chiama Francesco Alberoni, che io ho sempre definito uno delle grandi cariatili del patriarcato. C'è la sua rubrica fissa tutti i lunedì mattina su Corella Sera in prima pagina e qua, stamattina, mentre il lunedì scorso si era scagliato contro il web, stamattina prende le difese invece dell'amore, perché è anche lui, diciamo così, il sociologo dell'amore, l'amore patriarcale che sia chiaro. Allora, vediamo un po'. Il titolo di questa rubrica di oggi, lunedì 2 marzo 2009, intitolato il titolo è il seguente È l'amore che dà un futuro alla specie umana Esordio. Dopo l'uscita della nuova edizione di Innamoramento e Amore, Innamoramento e Amore è uno dei saggi che Francesco Alberoni ha pubblicato, mi pare, 20, 20, 25 anni fa, ora esce la nuova edizione. Molti mi chiedono perché io, a Francesco Alberoni, dia tanta importanza a questo fenomeno, il fenomeno dell'amore, perché è l'unica forza, e lui risponde, perché è l'unica forza che nella nostra epoca porta alla formazione di una coppia capace di durare porta alla formazione di una coppia capace di durare fermiamoci qua fermiamoci qua e io sono costretto purtroppo di fronte di fronte a queste affermazioni a ripetere un po' le stesse cose all'analisi del DNA in Inghilterra nel 2005 un bambino su sei è risultato un figlio non del suo papà ma di un altro, un altro di uno sconosciuto non del suo papà poi rapporto shock sei donne su dieci tradiscono il partner poi una donna su tre finge l'orgasmo poi due volte su tre e lei a non voler far l'amore poi dovrebbe parlare con gli avvocati matrimonialisti e anche con i giudici per vedere come vanno a finire queste coppie le coppie come vanno a finire le coppie nel matrimonio monogamico patriarcale il quale perché l'amore nel matrimonio monogamico patriarcale l'amore io ho chiamato amor miceneo tutto promette e nulla mantiene io ho già fatto l'esempio delle fiabe ma adesso arriva il bello arriva il bello attraverso un complesso processo psichico l'innamoramento produce una coppia unita da un amore erotico esclusivo che dura anche dopo la nascita dei figli forse la specie umana in cui il bambino non è autofutficiente non sarebbe sopravvissuta se non ci fosse stato questo processo che assicura la presenza per molti anni dei due genitori e qua con questa è la chiusa è la chiusa dell'articolo e Francesco Alberoni al quale non è simpatico il matriarcato mi pare che non ne abbia mai parlato qua elimina così butta via il matriarcato le centinaia di migliaia di anni del matriarcato nel corso del quale nel corso del quale matriarcato la specie umana si è perpetuata senza la famiglia monogamica matriarcale sono così cacciati via c'è una letteratura fiorente sul matriarcato vi prego di andare a vedere il mio filmato Carlo Sini e il matriarcato ma è uno dei tanti ma ne ho fatti tantissimi documentando che il matriarcato c'è stato ci sono le documentazioni sul matriarcato ai tempi del matriarcato non c'era la famiglia monogamica patriarcale non c'era la figura del papà la discendenza era matri lineare non c'era il papà non c'era la cosiddetta figura paterna quella orribile figura paterna che è ben delineata nella cosmologia patriarcale nel Lucifero Lucifero l'angelo più bello il figlio prediletto di Dio che si ribella contro il padre è questo è questo l'universo patriarcale qua chiaramente fa capire Francesco Alberoni che la famiglia monogamica patriarcale c'è sempre stata la pensa esattamente come Freud anche per Freud all'inizio della civiltà umana ci sono i parricidi i parricidi totemetamu l'umanità sorge col parricidio il complesso edipico il complesso edipico secondo Freud è una realtà universale anzi è proprio col complesso anzi è proprio con la questione di Edipo che ammazza il papà che nasce la civiltà umana eccola qua la famiglia monogamica patriarcale eccola qua Edipo che uccide il suo papà e va con la sua mamma i titani i figli di Zeus che si ribellano contro Zeus Zeus lo stesso Zeus capo degli dèi che diventa capo degli dèi dopo aver ucciso il suo papà eccolo qua questo è l'amore patriarcale? sì certo è una è una grande illusione patriarcale l'amore patriarcale così come lo decanta Francesco Alberoni è una forma di imprinting che serve a perpetuare il meccanismo infernale della famiglia monogamica patriarcale amore l'amore niceneo o amor patriarcale è quella forma di amore che tutto promette e nulla mantiene e ne sanno qualcosa beati loro gli avvocati matrimonialisti e i giudici e quelle famiglie monogamiche patriarcale che non finiscono in tribunale vivono come sepolcri imbiancati magari lui e lei hanno l'amante ma Alberoni Francesco Alberoni tu qua cancelli centinaia di migliaia di anni di matriarcato non ne vuoi sentire parlare del matriarcato e l'umanità si è perpetuata agli esordi agli esordi e per centinaia di migliaia di anni si è perpetuata senza la famiglia monogamica patriarcale che è la cellula base del sistema patriarcale diventato oggi sistema patriarcal capitalistico va bene un ulteriore scritto che conferma la sua stretta appartenenza al mondo patriarcale vera cariatide del patriarcato per cui se Francesco Alberoni rispolvera rispolvera il suo innamoramento ed amore io gli mostro a Francesco Alberoni questo libro La stirpe del serpente dove appunto si parla del passaggio terribile e cruento dal matriarcato al patriarcato e del fatto che oggi siamo noi nel patriarcato con proprietà privata e matrimonio monogamico patriarcale e tutte le altre brutture che caratterizzano l'universo patriarcale accademici grazie e tanti saluti da Serafino Massoni grazie a tutti grazie a tutti